Bentornati ragazzi su Giovi HD Sport Bentornati in questo nuovo episodio Questo team of the week possibili giocatori IF per il team of the week numero 14 Questo team of the week, ve lo avviso Ci sono state poche reti Quindi è stato un po' difficile capire Chi riesce ad entrare nel team of the week E chi un po' verrà escluso Però sono riuscito a reperire qualche giocatore E sono riuscito ad inserirlo Non sono tutti 18 Ma va bene Ho fatto del mio meglio Infatti in questa settimana sono riuscito a trovare ben 3 portieri Che potevano meritare l'IF E sono questo qui, team Hayton Poi c'era Diego Lopez E c'era un altro, si chiamava Magalli Vabbè Comunque Io ho scelto tra Diego Lopez e Hayton Ho scelto Hayton perché ha parato il rigore E la sua squadra ha vinto Quindi senza subire gol di pergiunta Quindi vincendo 1-0 tranquillamente Quindi l'ho detto troppe volte Quindi vabbè Dettaglio Comunque questo è il portiere di questo team of the week Secondo me Poi ci sarà un difensore buono Un centrocampista buono Probabilmente Questo tutti possibili Non è niente di certo Quindi Passiamo alla difesa Difesa composta da Benazia Benazia Trovo uno fuori casa dalla Fiorentina Quindi Rodriguez potrebbe entrare Underlan Leandro Allora Questo giocatore ha fatto un gol Nella partita Vinta 0-1 Solamente sì Ha fatto solo un gol Perché comunque un difensore centrale Ha fatto un gol Comunque potrebbe entrare Ho controllato Ho visto partite in Russia La Russia mi ha giocato questa settimana La MLS mi sa che è finito E basta Rode Potrebbe essere insieme a Benatia Oppure Entrare al posto di Benatia Perché Ha fatto due assist Nella partita di 20-0 Ha fatto fuori caso Ovvero dal Bayern Monaco Quindi o Rode O Benatia Roberto Firmino Ha fatto Un gol e un assist Nella partita di 20-3 A2 Dall'Hofnheim Quindi un if Ci potrebbe stare Feguli Ha fatto Due gol Nella partita di 20-3 A0 Santi Casorla Ha fatto Due gol Nella partita di 20-2 A1 Quindi Santi Casorla Per me potrebbe esserci Abbiamo Guanmata Guanmata Ha fatto Un gol Nella partita di 20-3 A0 Guanmata Più o meno Diciamo che Questa settimana Se non Ci sono stati Pochi giocatori Che hanno fatto Doppiette Triplette Infatti Nessuno Quanto ho visto Ha fatto una tripletta Quindi Devono cercare Di racimolare Un po' Di giocatori Con i Bly E Quindi Guanmata Potrebbe essere Uno di questi top Di questa settimana Poi abbiamo Hutt Ha fatto due Con la partita di 20-3 Fuori casa 0 A2 Fuori casa Bene Lima Lima Ha fatto due Con la partita di 20-3 Due a 0 Contro il Porto E quindi Questa è la squadra Titolare Secondo me Non è niente di che Infatti Il rating è 74 Non è altissimo Però Ci sono giocatori interessanti Tipo Guanmata Benatia Se esce Comunque Sono giocatori interessanti Senti Casorla Se lo spostano al C.O.C Allora Diventa un ottimo giocatore Secondo me Passiamo la panchina C'è poca panchina Abbiamo Buonaventura Ha fatto un gol E un assist L'appartimento 2-0 Dal Milan Cristobuopoulos Ha fatto un gol E un assist Nella partita Vinta 2-1 Fuori casa Contro l'Udinese Mauri Ha fatto due gol L'appartimento 3-0 Mauri Secondo me Usciva Dunque ragazzi Questo è il mio La mia Possibile Timo DeWick Del Quattro Otticesimo Timo DeWick Di Fut15 Ditemi voi Cosa ne pensate Che giocatori Ci saranno Secondo voi E Quali giocatori Non ci saranno Di questi Che ho scelto io Ditemi cosa ne pensate Lasciando un bel Commentino E dunque ragazzi Se ti è piaciuto Se vi è piaciuto Questo video Questa Prediction Questi possibili giocatori If Lascia un pollice In su Iscriviti al canale Se non siete già Iscritti Qui a Joey's Po Saluto Vi ringrazio E